buongiorno a tutti amici amanti dei motori oggi siamo con davide clemente e stiamo facendo un bel giro godetevi con noi la nostra avventura sentite questo profumo no secondo me è proprio miscela ragazzi dove siamo stiamo arrivando a 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 adesso ci adentreremo nel sottobosco ed è qualcosa di veramente unico siamo stati fortunati oggi una giornata veramente fresca ma nonostante sia agosto mai mi hanno fatto passare a a a era per farsi riprendere girbanti a benvenuti a geraci siculo capitale della contia di ventimiglia tremente vola che spettacolo ragazzi qui a enna ogni comune ha il suo castello le sue fortificazioni veramente molto caratteristico una 500 usata come fioriera e questo è lo spettacolo delle madonie guardate eccezionale paesaggi unici godibili soltanto con una vespa con un mezzo aperto a 360 gradi da queste altitudini è possibile vedere un panorama strepitoso anche i ragazzi in piedi che finanziato tanto spettacolo e 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 sono sottomarcia se tu vai tornare al minimo preciso questo non ti tocca mai lo 19 o 45 ti ricavi anni che è così candela nocciola e 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 andiamo a farci il bagno ciao amici spaghetti alla carbonara aspetta non sono ancora chiesto ovviamente tu ti ricordi cosa hai ordinato si spaghetti alla carbonara davide spaghetti alla bolognese come quelli tuoi sono eccezionali eccoli qua serviti direttamente nel tegame adesso adesso andiamo a fare l'assaggio e vi dico com'è adesso e e e e e e e Grazie a tutti. Quella che vedete è Ganji. Per certi versi sembra quasi un borgo, in realtà è un comune abbastanza grande, posto su una collina. Come potete vedere siamo altissimi. Ci dirigiamo in direzione di Nicosia, prossima tappa di questo viaggio di ritorno, da Cefalu Picadenna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.